Ciao amici, ho pensato di fare una figata. Ogni volta che pronuncio una frase, l'inquadratura si sposta instantaneamente. Perciò, ecco a voi. Ehi, che diavolo stai facendo qui? Sto usando il mio computer. Questo è il mio computer. Ehi, che sta dicendo? Questo è il mio computer. Ah, sì? Dimostralo. Tu non hai un computer perché non hai abbastanza soldi per comprarlo. Adesso vattene. Cacchio, questa è una prova molto schiacciante. Mi sa che ritorno alla mia insulsa vita. Aspetta un secondo. Nemmeno tu hai soldi. Impossibile che abbia un computer. Cosa intendi di dire adesso? Ecco, forse l'ho rubato. Sì. A posto. Adesso. Finalmente. Quindi se non hai comprato il computer non ti apparterranno. Cristo santo, se sei così affezionato prendi le vattene. Grazie. Ma un monitor non funziona senza un... Cristo sì, ma un monitor non ci saràочissimo. Fa�g table non sappiamo. Di e invece se questionsi. Di e invece si confordo. Oro che che sta schaut ciao a tutti? Cosa ti sono giàata così... Cosa ti sono anche...